Sicuramente è un pasticcio che penalizza una parte importante della nostra regione. Io mi auguro che sia una sistemazione tecnica. Sono stati espunti dal decreto semplificazione delle norme che si ritenevano fossero coerenti con l'articolato di legge e con i requisiti della necessità d'urgenza della decretazione. Quindi penso che il Governo vorrà correre ai ripari e rimediare a questo problema. Certamente è un pasticcio, spero che non sia un pasticcio ovviamente irrimediabile, anzi ritengo che il Governo debba al più presto correre ai ripari per garantire il proseguo delle esenzioni fiscali legate al conto morante. Sappiamo che lei è garantista, ma come buona parte di Forza Italia, ma il garantismo in questo caso Salvini si deve far processare oppure è meglio evitare questo passaggio? È evidente a tutti che questo è un processo totalmente insensato. La decisione di non far sbarcare dalla nave di Ciotti, così come quello di regolare gli sbarchi, così come quello che spero al più presto si cominci a fare, di reimpatriare i cittadini che non hanno diritto, fanno parte di un elementare criterio di eguaglianza di fronte alla legge e di regolazione dell'immigrazione che tutti i paesi nel mondo fanno, dagli Stati Uniti all'Australia, al Giappone, al Canada, alla Gran Bretagna. Quindi pensare di processare il ministro dell'Interno per avere non consentito a persone che non avevano titolo di entrare nel nostro paese lo trovo, fosse in lingua italiana, uno simoro, certamente un'assurdità. Quindi io mi auguro che il Parlamento faccia valere le prerogative della politica in questo caso e dica alla magistratura che non è un tema di cui si deve occupare negando il processo. Dopodiché vedremo cosa farà il Movimento 5 Stelle che in questo ha sempre avuto una visione diversa e forse è bene che qualcuno, anche il governo degli amici della Lega, se ne renda conto. Dal decreto Bonafede, dalla fine delle prescrizioni, a tutto quello che è stato fatto in termini di giustizia in questi mesi non si concilia con uno stato di diritto, secondo me, ma si concilia anche con la posizione degli amici leghisti nella loro storia. Anche nel centro-destra, però, sul tema di migrazioni le posizioni sono diverse e Berlusconi ha lasciato intendere che un'apertura agli ingressi di alcuni migranti non cambierebbe di fatto la situazione italiana. Il Presidente Berlusconi ha detto una cosa ovviamente di buonsenso e anche di umanità che non cambieranno 50 migranti la storia dell'immigrazione nel nostro paese e che non faranno la differenza. È certamente vero, com'è certamente vero però, che 50 più 50 più 50 più 50 fanno l'enorme mole e massa di persone che sono entrate nel nostro paese. Non mi è chiaro per quale ragione le organizzazioni umanitarie e le navi delle organizzazioni umanitarie che battono bandiere di altri paesi, che provengono da altri paesi, dopo aver raccolto i profughi continuano ad arrivare davanti i porti italiani essendo il Mediterraneo una conca a un giorno e mezzo di navigazione dove vi sono porti francesi, spagnoli, greci, maltesi a cui fare riferimento. Io credo che tutto questo sia un'enorme pressione verso l'Italia a cui fa comodo a tutti che continui ad assolvere il compito di raccogliere i migranti nel Mediterraneo senza creare disturbo ai suoi vicini, ai suoi alleati e ai suoi compagni d'Unione Europea. In questo senso un segnale netto va dato. L'Italia ha gli stessi diritti che ha la Germania, la Francia, la Spagna, la Grecia, l'Austria e tutti gli altri paesi di accogliere sul proprio territorio chi ha diritto di starci. Gli altri paesi non hanno il diritto di spingerci ad accogliere persone che non dobbiamo accogliere. Non possiamo farci mettere sotto schiaffo da questa politica né sentirci in colpa per il fatto di far entrare nel nostro paese solo chi ha il diritto di entrare esattamente come fanno tutti gli altri paesi del mondo. Non ho capito perché se vai in un porto italiano e non hai titolo di entrare devi essere fatto entrare se vai in un porto francese e non hai titolo di entrare non devi essere fatto entrare. Un minimo di buonsenso e di uguaglianza di fronte alle situazioni va tollerato. Su questo penso che Salvini faccia bene.